Regione, via libera la prima variazione di bilancio, 46,92 milioni per la sanità, il provvedimento passa maggioranza con 23 voti a favore e 12 contrari. Cheu, dalla Regione, 8 milioni di euro per le bonifiche, lo ha annunciato il Presidente della Giunta Eugenio Gianni, rispondendo in aula un'interrogazione in merito, presentata dalla consigliera regionale Irene Galletti. Sport, Alessandro Tressadore porta in alto il nome della Toscana, targa al talento del giovane pistoiese protagonista dei recenti mondiali di sci alpino per diversamente abili. Il Consiglio regionale della Toscana approva la prima variazione al bilancio di previsione finanziaria 2023-2025, annualità 2023 della Regione, approvato con legge regionale 46-2022. Il provvedimento passa a maggioranza con 23 voti favorevoli e 12 voti contrari. Come illustrato in aula dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, si tratta di modifica agli stanziamenti di spesa, che lasciano sostanzialmente inalterati i volumi complessivi del bilancio. Si tratta di una traslazione di risorse per 46,92 milioni di euro, che passano dal titolo spese correnti a spese in conto capitale. Una manovra importante, anche se molto puntuale, è riferita soltanto ad un aspetto, cioè a quello del riequilibrio dei conti del servizio sanitario regionale. È nota a tutti che la sanità dopo la pandemia ha registrato forti perdite, quindi c'è un impegno da molto tempo da parte della Regione Toscana, come del resto da parte anche delle altre regioni italiane, a recuperare risorse. Con questa variazione si fa proprio quest'operazione. Si vanno a recuperare una serie di risorse dai fondi di riserva e anche dalle somme che erano state poste a garanzia dei debiti che erano stati contratti dagli enti del servizio sanitario nei confronti di cassa depositi e prestiti e coperti dalla garanzia della Regione attraverso le lettere di patronage per un recupero che si avvicina ai 47 milioni di euro, 46,92 milioni di euro. Queste risorse, recuperate dagli accantonamenti e dalle riserve, vengono oggi destinate al servizio sanitario regionale. Una misura importante, necessaria e che dimostra come la Regione stia con senso di responsabilità affrontando il tema dei costi della sanità per continuare a garantire i servizi ai cittadini. Una variazione molto importante che mette in sicurezza i conti della sanità che conferma quello che Italia Viva ha sempre detto in Toscana che i soldi c'erano, le risorse erano possibili da trovare per cercare di mettere in equilibrio i conti della sanità che non serviva a aumentare le tasse. Su questo ne abbiamo fatto una battaglia identitaria del nostro partito. Io in primis durante la sessione di bilancio ho sempre rivendicato il fatto che non servisse a aumentare addizionale IRPEF che le risorse si potessero trovare. Oggi queste risorse vengono trovate e la sanità dimostra ancora una volta a fatica, quello è vero, ma di trovare un equilibrio sostanziale dei propri conti ma questo lo trova perché ovviamente eroga un livello di servizio molto alto un livello di qualità che deve migliorare soprattutto rispetto all'assistenza dei territori ad alcune risposte rispetto alle liste di attese e su un efficientamento del sistema dell'emergenza e urgenza un'integrazione massima da fare con il sistema del volontariato. Su questo continueremo a lavorare come Italia Viva ma intanto soddisfazione di una maggioranza che trova la compattezza in questa manovra di bilancio. 46 milioni circa di storno di cui una gran parte dai patronage delle aziende sanitarie e un'altra parte più piccola dei fondi di riserva. Sostanzialmente si continua a navigare a vista e ci sono difficoltà, lo sappiamo, per quanto riguarda i ricorsi delle aziende farmaceutiche che per i payback sanitari sono state messe a credito. Vedremo se riusciremo a incassare tutte le cifre che sono state messe a bilancio nello scorso anno. La preoccupazione è permanente, manca la programmazione, manca la strategia, abbiamo necessità di far ripartire la nostra regione, invece vediamo il PD sempre più buttarsi a sinistra. e anche su temi che riteniamo fondamentali come il federalismo e il regionalismo differenziato in realtà si fa più politica che veramente confronto tra le parti. Noi ci siamo, ci siamo per sostenere la sanità pubblica, lo diciamo senza dubbi e con determinazione. Quindi abbiamo votato contro per una scelta di natura politica perché non cambiano purtroppo le cose per i toscani. Una valutazione pessima nel senso che c'è bisogno di fare questa variazione di bilancio perché c'è un buco da 850 milioni di euro fatto dalle giunte di sinistra della regione toscana in ambito sanitario, mi riferisco al payback e quindi allo sforamento della spesa in ambito sanitario rispetto alla quale la regione toscana riesce a metterci una pezza, cioè non viene commissariata semplicemente perché il governo Meloni ha messo più soldi nel Fondo Sanitario Nazionale. Il governo Meloni è il governo che nella storia ha messo più soldi in dotazione alla sanità italiana, chiaramente di quel fondo ne viene una quota parte anche alla regione toscana e così riesce la regione in parte a coprire i propri danni fatti in questi anni. Danni che sono sotto gli occhi di tutti. Voi pensate che in Toscana ci sono circa 2000 primari, c'è un primario ogni 10 posti letto, un primario ogni 10 posti letto. Quindi quando l'assessore Bezzini e il presidente Gianni chiedono più soldi, noi vorremmo sapere più soldi per far cosa? Per fare il 2000esimo primario, per aumentare ancora un posto di governo dentro la sanità o per fornire più prestazioni come in realtà non vengono fornite? Questa è la domanda che facciamo, le domande a cui vogliono avere risposta i nostri cittadini che non riescono ad accedere alle liste d'attesa. Inutile che ci vengano a dire in aula noi facciamo debito perché fermiamo prestazioni. Non è vero, non è vero. Voi fate debito perché accontentate i vostri amici, sempre più dei vostri amici, perché create in continuazione i posti dirigenziali anziché dare prestazioni. È vero l'esatto contrario. Naturalmente è una valutazione negativa, anche perché è ormai certificato che noi abbiamo un deficit strutturale di mezzo miliardo di euro. Un deficit che noi possiamo provare a ripianare in tutti i modi, ma se non ci mettiamo in testa di attivare una programmazione lungimirante, seria, noi non riusciamo a uscire da questa situazione assolutamente critica. La Giunta oggi per l'ennesima volta ci presenta appunto un intervento sul bilancio di nuovo a tamponare una situazione. Io ricordo che dal 2021 ormai siamo a 203 milioni di euro che noi abbiamo messo in una situazione sanitaria sulla quale ancora non si riesce a capire che cosa realmente voglia fare la Regione. Io credo che qualsiasi appello che viene fatto a maggiori risorse dal Governo, seppur legittimo, naturalmente non può però determinare un nuovo ammontare di risorse destinate alla Toscana che però non vengano, diciamo, destinate nel modo giusto, quindi incanalate con una programmazione lungimirante. Questo in due anni e mezzo noi non lo abbiamo visto e il rischio è che davvero a chi verrà dopo si lasci in eredità una situazione contabile assolutamente pesante. Il fatto che un'intera variazione di bilancio debba essere dedicata alla sanità fa capire quanto sia in affanno in questo momento il sistema toscano e si può invocare naturalmente quelle che sono le criticità che si sono acuite con il Covid però rimangono, permangono a distanza di tempo e anzi si sono aggravate molte criticità che il sistema sanitario toscano già aveva e a questo si deve far fronte quindi con degli interventi straordinari e poco importa che in questo momento e solo in questo momento la giunta regionale invochi un intervento del governo perché questa attività poteva essere invocata per esempio nelle medesime circostanze negli anni scorsi quando invece pur trovandosi in affanno come oggi si è guardata bene dal fare in quanto era al governo e soprattutto considerando che dal 1970 la sanità toscana con i suoi vari buchi, scandali numero di primari assolutamente in sovrannumero rispetto ai posti letto problema di personale, di OS la vita indipendente, il CUP che ancora non funziona corte dei conti che scrive centinaia di pagine per attaccare il sistema di gestione delle liste d'attesa vedere adesso che si devono fare degli stanziamenti straordinari significa soltanto una cosa unita a quello che ho elencato prima che c'è una mancanza di capacità di programmazione e di organizzazione e questo qui naturalmente si riflette anche sugli aspetti finanziari La regione toscana, seguendo tutti gli iter di legge previsti ha la volontà di sostituirsi agli enti preposti per le bonifiche dei siti inquinati dal CHEU lo ha affermato il presidente della giunta regionale Eugenio Gianni rispondendo in aula ad un'interrogazione presentata dalla consigliera regionale Rene Galletti abbiamo stanziato 5 milioni di euro nel bilancio di previsione e con la prossima variazione abbiamo stanziato 8 milioni di euro ha precisato Gianni sottolineando come sia necessario seguire le indicazioni normative per potersi sostituire a chi deve fare le bonifiche in modo da accelerare l'iter Per poter agire sulle bonifiche occorre seguire le procedure che la legge ci propone sono procedure che spesso richiedono comunque il consenso, l'autorizzazione di chi magari con situazione di titolarità giudiziale in questo momento ha la responsabilità di quei siti quindi sono procedure purtroppo non brevi ma noi le seguiamo per poterci sostituire e bonificare quello che sono siti che possono essere stati inquinati dalla presenza del Cheo oltre 5 milioni che avevamo messo nel nostro bilancio altri 8 noi li metteremo proprio nella prossima variazione di bilancio perché riteniamo che comunque nell'interesse dei cittadini la regione che si costituirà a parte civile nel procedimento che è in corso da un punto di vista giudiziario può sostituirsi per anticipare quello che è l'effetto di bonifiche sul territorio Sapere che adesso a fronte di questo si sta pensando solo con la prossima variazione di bilancio di cominciare a provvedere a delle bonifiche è sconcertante perché ci sono migliaia di persone che sanno che questo materiale è stato sversato nei loro terreni che può percolare nelle falde dove loro hanno pozzi addirittura è stato utilizzato per riempimento di tracce a Crespina Lorenzana e soltanto adesso con una variazione di bilancio il Presidente ci annuncia a bontà sua che verranno fatte anche delle bonifiche per sostituirsi a quelli che sono i responsabili che certo non è un atto voluto ma appunto per diciamo grazie a lui verrà fatto secondo tutti i criteri di legge peccato che quest'azione che lui ritiene molto efficace è quantomeno tardiva soprattutto manca di un monitoraggio attento di quelli che sono e soprattutto nella comunicazione di tutti quelli che sono i siti contaminati perché queste aziende hanno lavorato anche in altri apparti pubblici e sappiamo che ci sono decine di migliaia di tonnellate di questo materiale sversato comunque sia immagazzinato, stoccato in luoghi che non conosciamo e quindi potenzialmente possono essere altri luoghi simili Talento, tenacia, forza e determinazione a voler fare sempre meglio questo è Alessandro Dressadore, giovane pistoiese protagonista dei recenti mondiali di sci alpino per diversamente abili che ha ricevuto una targa del Consiglio regionale come esempio per la Toscana tutta La storia di Alessandro, ha detto il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ci spinge ad essere ancora più responsabili e concentrati nel garantire stessi diritti e stesse opportunità per ogni cittadino e cittadino della nostra bellissima regione Sono davvero orgoglioso oggi di premiare Alessandro Dressadore il premio ad Alessandro è un premio all'impegno, alla voglia di farci del riconoscimento per portare in alto, in Europa, nel mondo, il nome della Toscana le due medaglie di bronzo conseguite quest'anno nei mondiali di sci alpino danno il senso delle qualità di Alessandro allora questo premio non è un punto di arrivo vuole essere per lui un punto di partenza speriamo di rivederlo qui a festeggiare risultati ancora migliori Grazie, mi hanno spinto anche l'eneratore e andare il meglio possibile la forza di riuscire ad andare avanti e più allenamenti la prossima mondiale speriamo che la vincere ancora e deve essere ancora più forte deve essere molto intenso e cercare di far meglio possibile Cosa devo dire di Alessandro? Vabbè che è una forza della natura innanzitutto mi emoziono sempre a dirlo ha due genitori che gli danno la possibilità di fare tutto quello che gli piace fare sull'isci è molto dotato, devo dire io alleno dei normodotati e Alessandro nella solita maniera anzi lui tante volte mi è d'esempio per ragazzini molto bravi per come la giornata affronta la lezione con noi e suggerimenti che gli diamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti